Loro venivano in questo ghetto, in questa masseria con dei pulmini, un pulmino da 9 posti, eravamo I caporali reclutano così gli schiavi, scelgono braccianti della propria etnia e cominciano a esercitare il potere su di loro, sin dal trasporto nelle campagne, tutto a un costo Ci costringevano a pagare una tassa di trasporto di 5 euro In questi terreni di Nardò, in Salento, Ivan raccoglieva pomodori, veniva pagato a Cottimo, senza contratto, più cassoni riempiva, più guadagnava Per ogni cassone da tre quintali intascava 3,50 euro, 20, massimo 25 euro al giorno Ma dalla sua retribuzione, oltre al prezzo degli spostamenti, doveva sottrarre anche quello del panino, altri 3,50 euro Il lavoro era massacrante sotto il sole per 10-15 ore, con 30-35 gradi Capitava spesso di stare male, quando succedeva era un grosso problema Un caporali per accompagnare un lavoratore malatto dal posto di lavoro al pronto soccorso, chiede ventiero di trasporto Ivan Sagnè ha resistito 5 giorni, poi si è ribellato Era il 2011 ed è partita da lui la prima rivolta dei braccianti Viveva con gli altri migrati in queste terre di Masseria Boncuri dove 4 anni fa venne ritrovato il corpo senza vita di un tunisino sfiancato dal sovraccarico di lavoro Fu la goccia finale, Ivan e gli altri bloccarono la raccolta di pomodori e angurie Dopo lo sciopero, caporali e titolare dell'azienda agricola sono finiti sotto processo Grazie a quella rivolta è stato introdotto nel nostro codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento di mano d'opera Da allora però poco è cambiato Molte imprese continuano ad affidarsi ai caporali per reclutare mano d'opera in poco tempo e per risparmiare E i braccianti continuano a morire È possibile che in Puglia, su circa 40.000 aziende che fanno assunzioni non di un dipendente o di due dipendenti Ma parliamo minimo da 5 fino ai 2.500 dipendenti Le ispezioni sono appena appena il 4%, neanche il 2% probabilmente C'è pari a 1.818 Dove risulta che le ispezioni sono state riscontrate il 52% per violazioni a vario titolo E di cui l'80% di queste violazioni sono per lavoro nero Questi dati si riferiscono al 2014 Nei primi sei mesi del 2015 sono state fatte invece 1.091 ispezioni Si è registrato dunque un leggero incremento nei controlli rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente Ma 550 aziende, quindi più della metà, sono risultate irregolari Nei campi esistono discriminazioni razziali e sessuali Le donne guadagnano il 14% in meno degli uomini Gli immigrati percepiscono un salario pari alla metà di quello degli italiani C'è poi il cosiddetto lavoro grigio, accade cioè che molti braccianti Pur avendo un contratto ricevono contributi inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge Mercato di mano d'opera illegale, a basso costo sono i ghetti Solo nel Foggiano ce ne sono una ventina di viti per etnie Qui siamo a Borgo Mezzanone, il ghetto dei bulgari Quanto vi pagano? L'ora? Sì 4 euro Nei mesi invernali molti di loro tornano in Bulgaria e tirano a campare Capra, compriamo pegoro Facciamo 50 capri, 50 pegori E poi dopo? E poi vendiamo latte, facciamo mozzarella, così Spostandoci 30 chilometri più a nord arriviamo a Rignano Garganico Il ghetto africano, il più grande d'Europa Ospita circa 2000 persone E' un villaggio organizzato a tutti gli effetti Con case e ristoranti improvvisati Con chiese e moschee Polincia ha aperto le porte di casa Una casa che è anche un ristorante per gente del ghetto E per chi viene da fuori, ad esempio i volontari Lei in inverno lavora come badante a Napoli In estate con sua madre e suo figlio si sposta qui in Puglia Devo stare qua, perché per guadagnare uno devo sudare Hai dei progetti? Sì, molto Molto Prima per quest'anno, alla fine della campagna devo andare in Cammon Quando torni mi devo trovare un lavoro Vediamo se c'è qualcosa meglio Io non vengo a ghetto, ma se non c'è qualcosa altro da fare Devo tornare a ghetto In attesa che forse troverò qualcosa di buono Sono qua da 30 anni, i soldi non c'ho E sto male Sono malata Ho fatto un incidente C'è atroce E vuoi ritornare in Cammon Se io c'è il biglietto, ritorno Per sempre Non vuoi più ritornare qua Perché sono già vecchia Anche a Livi vive a Rignano Ed è arrivato in Italia dalla costa d'Aborio Passando dalla Libia Prima è stato Libia Poi Libia, tre anni Sono uscito a Libia E sono venuto a Lampadosa Che viaggio è stato? Viaggio è stato Da cinque giorni Dell'acqua Ali, come tanti, fa il giro delle campagne campane Pugliesi, calabrese e siciliane I suoi ritmi lavorativi sono scanditi dalle raccolte stagionali Qui a Rignano guadagna tre euro a cassone Per lui è impossibile mandare soldi in Africa Alla famiglia che non vede da tanto Tanto tempo adesso Perché il mio problema Si è il problema di documento Non ho ancora trovato documento proprio Così non posso andare al paese A guardare la mia famiglia